Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12 dove ci sono 2 km di coda a causa di un incidente tra lo svincolo di Carrara e Sarzana in direzione Genova. In A1 tratto chiuso per lavori tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. Si informa che stanotte in orario 22.4 sarà chiusa per lavori l'uscita di Firenze in Pruneta provenendo da Roma. Spostandoci sulla FIPILI rallentamenti per lavori tra Montopoli-Valdarno e Santa Croce-Sullarno in direzione Firenze. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto rallentamenti in entrambe le direzioni per un senso unico alternato circa 4 km prima di Fivizzano. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!